Albitano per salire su questo palco rovente le scuole che si esibiranno questa sera, le vado a presentare l'Accademia Cecchetti, Alchimia Flamenca, Amarak Manz, Area 111, Vatogada Dance School Warriors, ASD Chico Ravaglia, Sezione Ritmica CSI Imola, Dance Revolution, Gamma Club, vai! Facciamo un grande applauso alle scuole e soprattutto agli insegnanti, venite pure, potete salire ragazzi, salite, salite intanto, schieratevi entrano con la musica come artisti, allora scusate, bene perfetto, anche perché comunque la danza è una cosa molto importante è una disciplina che serve per insegnare ai giovani e ai meno giovani questa passione importantissima ci sono all'interno di queste esibizioni anche giovani o meno giovani persone che hanno partecipato a importantissimi concorsi hanno ottenuto ottimi risultati ma non stiamo neanche qui ad elencarli io prima di presentare il primo gruppo che ballerà questa sera voglio ancora leggervi una frase sempre sul tema della libertà, in questo caso a cura di Area 111 Area 111 ci dice che per noi il concetto di libertà significa essere qui stasera poter condividere un momento magico con tante altre persone che sentono la nostra stessa passione condividere un sinonimo di libertà perché significa dare e ricevere in cambio quindi essere liberi di arricchirsi e diventare grandi giorno per giorno senza inibizioni e soprattutto senza paura difendiamo e insegniamo la libertà in modo che non venga mai data per scontata ma che venga considerata un bene inestimabile cominciamo con il CSI applauso Piazza Gramsci applauso Piazza Gramsci 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 Piazza Gramsci